Se la partita è lontano, se quello va a fare la febbre, oppure se è a casa con i bambini che avevano organizzato un bel tranzo, potete guardare la partita anche la casa con i delasforzi. Non la fai di più! Non la fai di più! Allora, mi ho detto andate all'estadio! Sì, andate all'estadio! Bravo, aspetta, raccontagli uno qui! Va, bravo! Ci senti? Ok, va. Ma 25ゃi a casa con i delasforziico Ma 26ゃi a casa! No, il concetto mi sembra chiarissimo, mi sembra molto chiaro. No, 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 in questo modo mi siete sbagliati, nessuno sta prendendo il progetto. No, no, in questo modo mi siete sbagliati, nessuno sta prendendo il progetto. No, no, in questo modo mi siete sbagliati, nessuno sta prendendo il progetto.